Ma io ho sempre pensato e continuo a pensare che non è tornato il fascismo, però quando sento parlare certi ministri cominciano a venire dei dubbi anche a me, sembra che lo facciano apposta per farci sapere che invece è tornato, perché io ero abituato che parlavo la sera e due giorni dopo mi arrivava la querela o l'annuncio di querela. L'altra sera a quel povero uomo, tra l'altro un medico che lavorava in polizia e che è esperto di soccorsi, che parlava, gli è arrivata in diretta, mentre stai ancora parlando c'hai già la querela qua, ma si può querelare uno perché dice che in passato anche col mare Forza 7 le motovedette partivano e poi l'abbiamo capito dopo perché gli è arrivata la minaccia di querela contestuale alle sue parole e perché ci sono dei buchi nella versione ufficiale e oggi non solo le opposizioni ma persino Fratelli d'Italia ha chiesto a Piantedosi di fare chiarezza su quei buchi, perché stamattina sul Fatto Quotidiano abbiamo pubblicato uno scoop di Antonio Massari che racconta quei buchi e racconta che la finanza è uscita a cercare gli scafisti senza avere i mezzi per fare i soccorsi, mentre la guardia costiera non è uscita pur evidentemente, secondo quello che diceva la persona che è stata querelata in diretta, potendo tentare di farlo.